Ciao ragazzi, nel video di oggi andiamo a vedere i dip. Dip su sedia o su una panca è uguale, l'importante è che andiamo a posizionare le mani all'esterno delle anche o leggermente più aperte, più o meno un pollice dalle anche. Ora, la sedia che ho è abbastanza stretta, quindi avrò una presa abbastanza stretta, però voi se avete un appoggio più ampio, utilizzate un appoggio più ampio sulle mani. Una volta posizionate le mani ai lati, vado a uscire fuori dalla sedia, deprimo le spalle, cerco di spingere le spalle più in basso possibile, lontano dalle orecchie. Posso effettuare la discesa flettando bene il gomito, mantenendo la schiena attaccata alla sedia o alla panca, quindi non mi vado ad allontanare, rimango sempre vicinissimo, e posso fare l'esercizio con le ginocchia flesse piegate. Quindi l'esercizio sarà questo. I gomiti si chiudono all'interno, quindi non li vado ad aprire lateralmente, e cerco di mantenerli stretti, chiusi. Per tutto il tempo cerco di deprimere le spalle. Per faticare di più posso andare a distendere le gambe in avanti, scendo, salgo, scendo, salgo. Cerco sempre di rimanere vicino alla sedia. Scendo più o meno con la spalla a livello del gomito. Se ho dolore faccio una discesa più piccolina.